Massimiliano Fedriga, per gli esodati questa legge di stabilità che cosa dice? È una legge insufficiente perché va a tutelare una piccola platea rispetto alle persone che avrebbero diritto di essere salaguardate. Non solo lascia scoperti dei soggetti che già ad oggi non percepiscono alcun tipo di reddito, malgrado avessero firmato degli accordi poi disattesi da parte del governo dopo la riforma Fornero e malgrado quanto dica governo e maggioranza che essere salaguardato tutti i soggetti. Non solo, per gli anni successivi non si è trovato una lira di coperture, mentre invece hanno ben pensato di trovare 215 milioni di euro per i lavoratori socialmente utili di Napoli, Calabria e Palermo. Sono dati che noi riteniamo inaccettabili perché per gli sprechi e i bacini di voti di qualche candidato nel mezzogiorno si calpesta la dignità di lavoratori che pensavano di avere una pensione dignitosa invece negata dalla riforma Fornero e dai partiti che hanno votato la riforma Fornero. Ci sono degli incentivi per creare nuovi posti di lavoro? Nulla, c'è stato soltanto un taglio del cuneo fiscale in risorio, ridicolo e offensivo verso imprese e lavoratori. Noi abbiamo una pressione sul lavoro superiore a qualsiasi altro paese europeo. Se pensano di poter intervenire con al massimo 17 euro al mese per lavoratore, è chiaro che la misura diventa uno spreco e non invece un incentivo a rendere competitive le nostre imprese e lasciare più soldi in busta paga ai lavoratori. Bisogna intervenire con decisione, andare veramente a tagliare gli sprechi e a non inserirne nuovi sprechi come ha fatto questa maggioranza e questo governo e indirizzare quelle risorse per i nostri lavoratori e le nostre aziende.